Usare le grandi opportunità che arrivano dal Recovery Plan per dare nuova vita a spazi e luoghi della città. È con queste parole che il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, Daniele Vimini, ha parlato dell'attenzione che nei prossimi mesi potrebbe essere dedicata ad un importante progetto di riqualificazione destinato al San Benedetto. Da anni si discute degli importanti interventi per l'ex manicomio di proprietà dell'Asur, anche se ad oggi per l'ormai fatiscente struttura alle porte del Centro Storico nulla è cambiato. Come sottolineato dal Vice Sindaco, le opportunità offerte dai fondi europei e dal Bando Decreto Rigenerazione Urbana rappresentano l'occasione per parlare in maniera concreta della nuova vita del San Benedetto, data anche l'elevata cifra delle risorse necessarie per progettare la ristrutturazione dello stabile. L'esigenza di trovare soluzioni per l'area abbandonata arriva anche dalla voce del consigliere regionale Nicola Baiocchi, il quale, consultatosi con l'assessore all'edilizia pubblica regionale Stefano Aguzzi, ha poi individuato nella partecipazione delle Marche al Bando Indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una delle possibili chiavi di svolta sulla questione. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità, è stato individuato questo Bando importante che può portare un contributo importante alla nostra città, quindi io farò di tutto, cercherò di mettere quanto prima attorno a un tavolo come consigliere regionale della provincia di Pesurbino, in questo caso di Pesaro, il Comune di Pesaro e l'Asur e i responsabili della regione, l'assessore Aguzzi, che si occupa di questo progetto per farsi di presentare quanto prima questa domanda e cercare di portare in porto questo progetto molto importante, che potrebbe essere molto utile per una struttura che ormai ha decadimento da tantissimi anni.